Ci sono interrogazioni, ci sono interrogazioni in parte anche sui problemi che vanno ai confronti dei fuochi, è stata fatta anche l'interrogazione ad agosto su quello che era affasso sulla stampa di eventuali minacce nei confronti dei fuochi, dei dipendenti di Apofarma. In quell'occasione il sindaco non ha saputo smentirmi, mi aveva detto che mi avrebbe fatto di sapere, questa interrogazione risulta ancora tra le internazioni di fine base. Sul documento proposto siamo dell'idea che non saremmo dovuti arrivare a questi punti anche perché non si doveva procedere a questa norma, l'avevamo sempre detto fin da subito che era una norma inopportuna, anche alla luce di tutto l'impegno che tutti i membri di questo Consiglio Comunale avevano messo su determinati argomenti. Stasera con questo documento è anche il momento della coerenza e della testimonianza concreta di quello in cui si crede e di quello che vorremmo sempre vedere. C'è chi banalizza e chi semplifica. Le ha detto tutto per una semplice bottiglia regalata. Ma solo chi non conosce bene in profondità le questioni sullevate o solo chi vuol difendere a tutti i costi l'indifendibile vuol dire questo. Ogni gesto, ogni parola, qualsiasi cosa che possa anche solo minimamente legittimare il gioco manda messaggi pericolosi, devastanti alla nostra volontà. Mette in estrema difficoltà tutta quella società civile che lotta si impegna e mette poi a lungo, squalifica, deprime, tutto l'impegno serio, unanime, inequivocabile, che tutto questo Consiglio Comunale ha messo. Masoranti, posizioni, assessori, giudici. In tutti questi anni ci sono i verbali per testimoni. E soprattutto poi i nostri cittadini hanno bisogno di serietà, di coerenza, di responsabilità e soprattutto di fiducia. Come possiamo poi guardarli poi quando andiamo a chiedere a loro la fiducia se quando siamo capaci di mantenere quello che ci siamo presi, quello che abbiamo votato pubblicamente, democraticamente, quello che ci siamo impegnati a contrastare. Si banalizza. Faccio un esempio. Qualche mese fa la nazionale di calcio italiana ha accettato come sponsor premium una società di scommesse di gioco. È bastato un attimo e tutta la società civile si è indignata, la politica si è indignata. Il calcio, la nazionale avrà come sponsor una società di scommesse. Il PD. Accordo incompatibile con la lotta a gioco d'azzardo. I senatori, i senatori, i senatori, ma che sono potenti di citare che i senatori del PD è come allearsi con il lupo per non mangiare il pacocetto rosso. Questa è una novità che ha fatto alzare la voce anche alla politica. Come i senatori del PD, i rabelli che vanno e 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 vanno a tutti. È necessario stroncare ogni forma di legittimazione. Al tempo stesso anche l'ex calciatore Danilo Tommaso, calciatore della nazionale e della Roma, ora presidente dell'associazione di calciatori, ha stigmatizzato anche lui un messaggio devastante. E secondo me, secondo me, non c'è differenza da quell'episodio e pubblicizzare solo una società risposta. Stavate, tutti giocati a rete e a dire a racconto. Non sapevano che sta a fare. E sta un po' zitto. Per favore, per favore, per favore. Chiedo a tutto il pubblico di consigliere i consiglieri di opposizione di maggioranza e di potere esporre la posizione. Grazie. Grazie. Vedete quindi l'importanza dei segnali che ogni uditore a tutti i livelli è importante per portarvi dal punto di vista educativo e non pronti della nostra società. In questi giorni però hanno saputo che anche in Regione Toscana, che si fa, i consiglieri regionali del PD hanno fatto degli interventi, dei documenti di lotta alla ludopatia. Bene, benissimo. Questo dà ancora maggior forza al documento che abbiamo presentato questa sera. Signor Sinaco, noi, in assoluto, abbiamo criticato la sua scelta di nominare l'attuale all'istattore del gruppo, però il motivo. La persona in questione chiaramente può fare, e ovviamente, le scelte personali in tavola di che canale ottene, ma al tempo stesso come Ricarnar ha fatto delle scelte precise di contratto all'automatia, ha degli obblighi morali, sociali e politici ben precisi e non poteva e non può e non deve, mentre a capo di una sua partecipata, chi svolge attività in questo settore. Critichiamo pesantemente il fatto che sia stata fatta pubblicità a una società che si occupa di svolgere la scena e gioco. E in più questo avviene in palese conflitto di interesse, anche se l'avesse parlato in tasca suma. Siamo in presenza di un amministratore di una società che pubblicizza la sua società, o ad essa collegata, presso altre persone, presso la stessa società che amministra, palese conflitto di interesse. Grazie. 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 storie allucinanti, quindi non possiamo allestare il silenzio anche se una semplice banale bottiglia va a legittimare società di scommesse di gioco? Permette il consigliere di Geroberto, e poi lo mettiamo anche il suo grande lavoro che ha fatto come Presidente della Commissione della Costituzione, ha portato avanti un lavoro di lotta, viene anche il momento dell'amco, 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 dell'amco. Io non voglio, ma vogliamo, perché è scorretto, legare il nome di una società partecipata dalla Comune al 97,56%, una partecipata importante che può fare, che ha precisi valori, una misura ben definita, è un'azienda che fa notri, video notte, non voglio, non voglio una semplice bottiglia, non la voglio, non voglio una semplice bottiglia dove c'è il nome dell'azienda, molti non lo sanno, ma sotto c'è scritto slot e videolotterie, io non voglio legare il nome di Appafarma alle slot e alle videolotterie, non voglio, non voglio che insieme alla bottiglia ci siano anche gli auguri dell'amministratore unico con il logo di Appafarma, io non voglio che Appafarma sia legata a società di scommesse. Bravo Matteo, presidente, un lab, scusate. E sappiamo che comunque Comune ha tanti problemi come vite le società partecipate, adesso vorrei ricordare che l'impegno che il consigliere Martidelli ha sempre messo in Commissione di bilancio come se si è partecipato, l'impegno che ci ha sempre messo a tutela di Appafarma, dei lavoratori e dei cittadini ha proposto di fare anche una commissione di inchiesta per capire dove venisse il fuoco di Apofarma che è stata bocciata e sulla gestione di Apofarma ci sono i verbali che lo testimoniano ricordo poi che Apofarma ha un ben definito preciso codice etico che tutti devono rispettare amministratore unico compreso mi dispiace che non ci sono più di assessori questa sera non sarei rivolto anche l'assessore Bernardo e l'assessore della storia che hanno avuto l'idea sociale quindi hanno visto anche concretamente i problemi legati al settore dell'automatia e alle difficoltà mi dispiace che non c'è la vicissima che l'assessore professoressa di diretti fambrini che era sociale ma che lei è più educatore ma ha visto anche le difficoltà che si hanno non c'è la vicissima non c'è la vicissima